Benvenuti al penultimo giorno del meeting, sono Francesca Lamberti di Fotonica, sono qui con Deborah e Eliandra. Allora, Deborah lavora all'ufficio mostre del meeting brasiliana, Eliandra l'abbiamo già intervistata, Eliandra fa parte di Startup Italia e in questa occasione faremo una breve intervista in portoghese. Startup Italia, faccio una breve descrizione di cosa fa Startup Italia, sviluppa reti commerciali a livello internazionale. Quindi in questa occasione andremo appunto a specificare alcuni dettagli dell'attività di Startup Italia nel Sud America. Abbiamo parlato, Eliandra, di cosa Startup Italia fa per le aziende italiane che vogliono evidentemente aprirsi nuovi mercati in Sud America. Io vorrei farti la domanda al contrario, ma per le aziende sudamericane, brasiliane in questo caso, cosa fa Startup per far sì che loro possano entrare nel mercato italiano? Adesso Deborah mi aiuterà a tradurre questa domanda in portoghese. Allora, lei andrà, noi già conversiamo sul lavoro che Startup fa per le aziende italiane nel Brasile. Ora, la domanda che si trova è, come Startup, che Startup fa per le aziende italiane che vogliono entrare nel mercato italiano? Allora, noi lavoriamo in due frenti. In primo caso, se una impresa sudamericana, brasiliana, che vuole trovare un determinato prodotto nel mercato italiano, può essere dirigiti a Startup e dire, diciamo, quali sono le coordenazioni e noi procuriamo questo prodotto nel mercato italiano. Per il prezzo, se il prodotto potrebbe essere competitivo, facciamo una selezione di prodotti basicamente del stesso livello, presentiamo al nostro cliente e il decide qual seria la offerta più interessante. Ma lavoriamo anche di una altra forma, imprese sudamericano che vogliono trovare importatori o distribuidores per i loro prodotti nel mercato italiano, possono dirigiremo a noi e noi facciamo la stessa cosa, possiamo procurare questo possibile distribuidor, questo possibile importatore e alli, invece di fare una selezione di prodotti, noi facciamo una selezione di empresas, presentiamo a questo cliente in Sudamera, e il decide qual seria la impresa che sarebbe più adecuata al perfil del prodotto, al perfil della sua immagine che vorrei presentare nel mercato italiano. Questo è quello che noi ofereciamo alle empresas in Sudamera. Molto grazie. Grazie e auguro un buon lavoro. Grazie, Deborah, per la nostra produzione. Grazie a tutti.